Due nuovi casi di Covid-19, un nuovo fronte legato alla struttura sanitaria, un decesso e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata del 10 maggio. Una giornata tutto sommato tranquilla su fronte del contagio, rovinata dalla notizia dei decessori Sestina Mastrangeli, 77enne di Sulmona, che è deceduta nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila in seguito alle conseguenze del contagio da Covid-19. E l'86esima vittima che si registra in centro Abruzzo dall'inizio dell'emergenza pandemica in atto, la 71esima per la Valle Peligna. In memoria di tutte le vittime del Covid, il Lions Club di Sulmona poserà domani un albero di ulivo nei pressi della rotatoria di San Panfilo come segno tangibile del ricordo. L'inaugurazione ufficiale ci sarà molto probabilmente il prossimo 20 maggio. Su fronte del contagio, dopo il lieve balzo sulla curva epidemiologica che risale la giornata di venerdì, la situazione resta relativamente tranquilla. La ASL ha tracciato oggi solo due nuovi casi. Si tratta di una coppia di coniugi domiciliata a Scanno, che è stata isolata ed è in corso la ricostruzione della filiera dei contatti. Un nuovo fronte di contagio che sarebbe legato a una casa di cura privata dell'Aquilano, dove l'uomo si era sottoposto nelle scorse settimane a un intervento, la stessa, dove si sono accertate altre positività, tra le quali quella di una sessantenne di Sulmona. Un fronte, insomma, che meriterebbe attenzione vista l'evoluzione del quadro epidemiologico. Scendono intanto a 94 gli attuali positivi in centro Abruzzo. Si torna ai contagi a due cifre. Non accadeva dal primo settembre, quando il Covid segnava 90 attuali positivi e già allora faceva paura, nel vero senso, della parola. Non è il momento, in ogni caso, di abbassare la guardia. Segnalazioni di assembramenti nei weekend sono arrivate soprattutto da Pratola, dove è andata in scena la seconda parte della festa religiosa della Madonna della Libera. Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'ambulatorio di Sulmona-Falanplen. Sono 374 le dossi programmate per l'inoculazione, che si vanno ad aggiungere alle 140 di Pratola. Numeri nella media, con la speranza di risolvere le solite criticità.